L'installazione a soffitto di un lampadario è cosa alla portata di tutti. Basta usare lo speciale kit di fissaggio Fischer per lampadari e ventilatori. Nella confezione sono contenuti due tipi di fissaggio che offrono la soluzione giusta per qualsiasi contesto, come in presenza di cavità, nel caso di solette con tavelloni o contro soffittature col cartongesso. L'ancora KD con gancio si usa se il lampadario ha un unico anello d'attacco. Il tassello X8 si ha una piazza perforata con due o più fori. Completano la dotazione due punte da muro, una da 14 e una da 8 mm di diametro ed un inserto PosiDrive misura 2. In questo caso usiamo l'ancora KD. Gli attrezzi che servono sono nastro di carta, matita, trapano. Nel punto del fissaggio è presente una guaina con i fili elettrici. Il foro va fatto in posizione di sicurezza, basta spostarsi leggermente da un lato. L'ancora KD richiede l'utilizzo della punta da 14 mm. La soletta è fatta con tavelloni forati, quindi si fora col trapano ma senza percussione. Una X fatta con il nastro di carta impedisce alla punta di scivolare quando si fora. L'ancora KD ha una molla che fa scattare le alette all'interno del foro, appena trovano la cavità. A questo punto, avvitando il gancio, la vite sviluppa una trazione sulle alette. Si stringe sino a che il fissaggio diventa saldo del tutto. Ora non resta che appendere il lampadario al gancio, effettuare i collegamenti elettrici e coprire il tutto con la campana di finitura. Il lampadario è installato.